L'apertura della convention lunedì sera a Chicago ha offerto a Joe Biden il palco per un'uscita di scena d'onore con il Partito Democratico. Lunghi applausi, core di ringraziamento, occhi lucidi da parte del presidente che ha difeso i suoi ultimi quattro anni alla Casa Bianca, tra l'altro per gli ottimi rapporti transatlantici. Dopodiché le parole per la candidata a succedergli Kamala Harris di cui ha lodato la tenacia e l'integrità. Non ho mai avuto, e ti prometto che Kamala Harris non farà mai. Non farà mai avuto. Harris come vice nel 2020 ha detto Biden è stata la migliore scelta della mia carriera. Una carriera che a 81 anni dopo 52 in politica finirà probabilmente tra pochi mesi. Ho dato il meglio di me, ha detto commosso sul palco il presidente USA. La mia carriera è stata la migliore scelta della mia carriera.